Salve amici, ben trovati da Onofrio Colucci, qui da Runway Sport a noi Cattaro. Parliamo velocemente di una grandissima promozione in corso in casa Garmin, validità della promozione dal 1 di aprile al 31 maggio 2019, ovvero la promo rottamazione per l'acquisto di un nuovo prodotto della serie Fenix 5 Plus. Una grande promozione per tutti gli appassionati e gli interessati di questo eccezionale sport watch da outdoor. La promo consiste semplicemente nel venire qui in negozio, portare il vostro vecchio sport watch. Noi lo sopravvalutiamo fino a un valore di 300 euro a fronte di un acquisto di un prodotto nuovo della serie Fenix 5 X Plus. Non perdete questa grande occasione, è la prima volta che Garmin osa così tanto alzando l'asticella e offrendo a una vasta gamma un prodotto di alta gamma, scusate il gioco di parole, in cui una campagna di rottamazione. Il periodo è quello giusto, le grandi maratone e i grandi eventi di outdoor sono ormai alle porte. Con questa nuova aria di primavera, fare le pulizie in casa tra gli strumentini che utilizziamo per il nostro monitoraggio della nostra passione non è mai stato così conveniente. Vi aspetto in negozio per prenotarvi il vostro prodotto preferito della serie Fenix 5 Plus. Seguiteci su Instagram, su Facebook, sul nostro sito www.runwaysport.it Un caro saluto da Onofre Colucci da Runway Sport, Annoi Cattaro e ricordatevi la promozione è solo dal 1 di aprile al 31 maggio 2019. Ciao, a presto!